ben trovati nell'angolo dello sport facciamo una riflessione adesso sul calcio la riflessione la faccio a distanza di qualche giorno dopo aver digerito studiato attentamente le varie fasi della partita di finale di coppa dei campioni quella che ha dato la vittoria insomma giusto per intenderci al al liverpool e soprattutto ha dato la vittoria al suo allenatore club che poverino è un grosso allenatore bravo ci ha messo sei finali per poter arrivare alla settima a conquistare il la famosa coppa di quella partita mi è piaciuto soltanto il tifo sentire cantare migliaia di persone quel quell'inno you'll never walk alone cioè non sarai mai solo non andrai mai avanti da solo perché saremo sempre noi a sostenervi beh mi sarebbe piaciuto che i tifosi della curva nord pescara avessero visto quella partita avessero imparato come si fa tifo in folcloristicamente valido inutile ci sarà cantare portiere paperino e quant'altro che è una sciocchezza bisogna cantare un inno o cantare delle delle frasi che siano di supporto alla squadra non di offesa all'altra squadra perché se tu offendi l'avversario quello si incazza ti gioca ancora con maggiore acrimonia e ti e ti fa il gol voglio dire tu devi sostenere il tuo giocatore se vedi che la squadra un pochino in affanno la sostiene con un canto studiato ci sono tanti personaggi nel vostro ambiente può darsi che non c'è qualcuno che vi possa inventare un uno stacco musicale avete ne avete tanti insomma io stavo per fare un nome ma luca teseo giusto per per dirne uno che se gli date l'incarico vi fa vi può fare benissimo uno stacchetto musicale che sia valido tanto quanto l'inno del pescara oppure cantatevi l'inno durante le partite che è sempre molto efficace detto questo voglio precisare che a mio modesto avviso si è vista una brutta partita insomma non era da 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 quelle due squadre insomma con quelle con quella storia diciamo ha vinto il catenaccio ecco diciamolo in poche parole siccome la storia la scrive sempre chi vince la storia adesso la scritta club che ha dimostrato come con il catenaccio quello vituperato quel catenaccio che ha fatto scrivere agli inglesi tante frasi brutte nei confronti degli italiani oggi l'hanno fatto loro va bene no il catenaccio se il catenaccio è fatto con intelligente ma è fatto soprattutto con una ottima preparazione atletica quello che ha confermato la squadra in liverpool e allora si può anche accettare inutile stare dire giochiamo bene perdi le partite questo è un campanello d'allarme per allegri che è stato richiamato all'ordine proprio da questo per questi motivi allora dico che il calcio ha avuto sempre delle evoluzioni insomma da quando è partito dal dall'albero di natale no portiere due difensori tre mediani e cinque attaccanti poi ha avuto delle evoluzioni successive passando dal metodo per passare poi al sistema per passare poi a 4 2 4 di brasiliana memoria ma quelli avevano dei mostri di giocatori che potevano benissimo permettersi di avere quattro in difesa due a centrocampo e quattro in attacco ma poi c'è stato il calcio globale del dell'olanda se vi ricordate no e in mezzo c'è stato però il questo elenio herrera che ha in italia aveva insegnato che con tre passaggi si poteva arrivare in porta e suarez portiere suarez jair e tiro in porta no oppure i facchetti che ti faceva l'ala tornante e fu inventata questa figura calcistica proprio da elenio herrera allora che succede oppure nel 61 quando si pensò a rinforzare la difesa con un libero no libero stopper due terzi in laterale mediale va bene non stiamo a fare adesso la i saccenti parlando di tecniche di tattiche ma questo solo per dirvi che il calcio si evolve non c'è una regola fissa dice ma noi zauri adesso giocherà con il 4 3 3 si va bene gli dai giocatori idoni per il 4 3 3 allora parlando di questo possiamo dire una cosa che il pescara così chiudiamo con una nota che riguarda il pescara ha un obiettivo particolare io credo che ti tentino di portare di riportare a pescara daniele ciofani attualmente al frosinone e marsicano a 34 anni e sta limpo agli sgocci le vorrebbe spendere queste ultime energie positive che ha a pescara per giocare oltretutto con il fratello e stare in un ambiente che era il suo però poi non basta giovani ci vorrebbe un nome di spicco uno che ti fa scattare la scintilla dell'entusiasmo dei tifosi e li fa abbonati perché tanto stringi che ti stringi il calcio oggi è business e basta non è dimostrazione d'amore oggi non trovi il presidente che dice faccio una squadra forte perché amo il pescara o perché amo pescara ma ti fa una squadra che dice così faccio delle plus valenze faccio delle operazioni accontento degli amici capi bastone mi faccio delle marchette calcistiche insomma questo è il calcio di oggi quindi però ci vorrebbe un nome di richiamo quale potrebbe hanno cominciato a fare di nome vido che già da qualche tempo parche già uno due anni fa si parlava di vido marco tumminello che però ha solo vent'anni chi te lo da potrebbero anche dartelo però ci vuole ci vuole la mentalità costruttiva di un presidente che pensi a rafforzare la squadra e non rafforzare la cassa sociale privata personale ufficiale pubblica quello che volete insomma mettete l'aggettivo che volete è tutto un affettoso abbraccio a voi come sempre da gianni russoso un grazie particolare all'amico e collega leo di blasio appuntamento alle prossime edizioni di tv q sport